La stampa turca insiste, il Galatasaray vuole paletta. Non si sarebbe dunque raffreddato l'interesse del club di Istanbul guidato da Cesare Prandelli per il difensore italo-argentino appena rientrato a Collecchio dopo le vacanze supplementari per la partecipazione al Mondiale in Brasile. Per ora c'è stato solo un contatto con l'agente del giocatore, ma a breve potrebbe arrivare l'offerta ufficiale al Parma. Intanto la squadra crociata si prepara al test amichevole di domani alle ore 18 a Collecchio contro la formazione lombarda di Lega Pro del Renate. Non dovrebbero essere della partita nemmeno per pochi minuti, lo stesso paletta così come Cassano e Acqua che hanno ripreso gli allenamenti solo lunedì. Sempre domani inoltre alle ore 12 verranno svelate a Collecchio le maglie per la stagione 2014-2015. Saranno tre. Classica la prima, gialla con croce blu la seconda, blu scuro con inserti gialli la terza. Tornando al mercato, nessuna frenata nell'affare Cassani. Il giocatore parteciperà con la Fiorentina alla tournée in Sud America per esigenze numeriche. Poi, una volta conclusa l'esperienza tra Argentina e Brasile con i Viola, a rientro in Italia, il 3 agosto prossimo, prenderà la via di Parma per rimettersi a disposizione di Roberto Donadoni. Questo è il patto. Del mercato del Parma, ma non solo, si discuterà stasera nella nuova puntata di Calcio e Calcio più estate, in onda, in diretta, come sempre alle ore 21, sulla nostra Teleducato.